Più colori e più valori per la RACI, la rassegna agricola del Centro Italia che diventa l'acronimo di Radici, Agricoltura, Cibo e Innovazione, presentato in logo della 33esima edizione in programma dal 5 al 7 maggio al Centro Fiere di Villa Potenza. Realizzato da David Crucianelli, il progetto con il nuovo sito raci.comune.macerata.it vuole interpretare al meglio la personalità dell'evento, passato lo scorso anno dalla provincia in mano al comune di Macerata. Si apre un sipario, il sipario si apre guardando immediatamente ciò che abbiamo di fronte, poi tra un po' arriveranno i contenuti che pure sono sintetizzati nel logo e che speriamo possa essere apprezzato dalle persone. Credo che sia una manifestazione sottovalutata dal punto di vista del valore perché i contenuti che si trovano in quei tre giorni e quest'anno saranno ancora ulteriori, alcuni saranno anche inediti e con il coinvolgimento anche di nuove figure, di nuove generazioni, speriamo possa davvero far crescere ancora di più una manifestazione così importante. Siamo grati come amministrazione provinciale nei confronti del comune che l'anno scorso ha voluto raccogliere questo testimone, questa sfida con un nuovo luogo, con un nuovo impostazione ma nella continuità di quella promozione che una volta fino a ieri era fondamentale, oggi è indispensabile. Una provincia martoriata, una provincia in ginocchio per i terremoti che l'hanno colpita, tante macerie ma tanta volontà, tanta forza di rimetterci in cammino. È anche un invito a continuare, a visitarla, a venire perché c'è tutto quello che avevano già imparato a conoscere e c'è qualcosa in più, la forza e la volontà di continuare e di guardare al futuro.